e ci siamo sono venuto un po' a vedere l'arno diciamo a vedere quant'acqua c'è guarda dove vado e viaggia di nuovo ma a 3.000 all'ora guarda guarda il lavoro tra poi ci arriva a piedi tra un po' sì ma è un eroe per quello ma ha segnalato un fatto un po' ambiguo ambiguo per venire vi che dalla parte di là diciamo di fornacette del ponte ci ho trovato una dimensione un po' diversa da quelle dovrebbe essere una cosa umana guardate un po' il lavoro sacchettino sacchettino birrina sacchettino dei gatti per cosa lì per scardassi per te finite ste po roba piattini aggeggini sacchetti di sacchetti compra gente c'è un tra l'olio l'acqua spazzatura c'è di tutto quindi può fare anche la permanente o da sciacquarsi ossi insomma voglio dire la spazzatura non manca spazzatura non manca guarda quando vanno a pulire i dati ragazzi che puliscano l'argine anche lì sacchetto il cadavere guarda c'è più di un cadavere mamma mia tutti i sacchetti neri li mettono io lo so perché sono un po' diciamo nel crimine scrivo roba crimine vabbè eccolo lì guarda tutti i sacchetti bottiglie tutto un da se l'antenne che ha un pallone no e non si sa se cavolo è un pallone pallone cerco per giocare voglio dire cerco per giocare era più qua poi si va alla staccionata dove c'ha le chiavi e vigili e qui altri cadavere guarda c'è anche un diviato d'accesso che non ci si può rendare voglio dire poi c'è una bottiglia il cavolo è un vaso insomma tutta roba d'antiguariato pari di cemento cadaveri poi si sa cos'è quello a fare lì un bidone cavolo non lo so sa avranno avranno imbarciamato una mummia ti devo dire bianco niente era per farvi vedere un poettino no oh qui c'è il grattevici di o magari hanno anche vinto la buttavo via che non si riscontra guarda 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 qui ah qui c'è proprio il palo del diviato d'accesso proprio tutta l'ore che sta a cercare oh questo nel canneto maledetto è tutto un un tasto l'antenne niente era per far vedere un po' il riscontro no fra greta garbo e che si chiama greta e la lì e casaglietta che la gente allora come vola via 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 niente da giosefine è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale se avete bisogno sono sempre via a disposizione pisa non nante più tu piano d'acqua all'arte però d'acqua mi piaceva andare a fare la fare mia ci vediamo più tardi alla prossima gioia alla prossima